guarda aveva nascosto la barca loro vogliono le ghiambe però le vogliono guarda quanti ce n'è Flora ok filma questa Flora Know Peacere Grazie Benorenzo stai precaviammo vorrei posare guarda ma faccio tutto guarda stai si a portar Bellissima, sei un mostro. Sono le noccioline Luca. Sono ghiande, non sono noccioline. Sono le noccioline. Sono ghiande. Le nocci. Vuoi riuscire a spaccarli? Oh, guarda. No, sta qua in marcia. Cip e ciop. Guarda. Guarda, ti faccio vedere che cosa vuole. Dai, piccolo. Guarda, ti faccio vedere che ci sono molto bene, ci peci, ci peci, ci peci, ci peci. Che fa? Sono degli ottimi arrampicatori, non ce ne ha. A testa sotto salire. Guarda quanti ce ne sono. Luca. Una marea. No, se non fosse che non ho come cazzo d'interno in Italia. Guarda là, guarda là, amore. L'ho visto, l'ho visto. Ma dall'altro lato, voglio avvicinarmi a un altro. Questi qua non sono... guarda. Grazie. E Luca sembra alla ricerca di cip e ciocco. Aspetta che riprendo Madison Square Park. E' praticamente un ozzo a cielo aperto. Ok, è posto con i cosi. Alla prossima, ve ne incontri ai milioni.